Manfredonia e il Gargano, capitali della solidarietà, della pace e della grande musica popolare. Va in scena il grande evento dell'anno, voluto dalla regione in una terra, il Gargano, da sempre crocevia di cultura e fratellanza, ma anche il luogo della Puglia a più forte valenza turistica. Silvia Godelli, assessore regionale al Mediterraneo. L'intera Puglia è territorio di pace, non abbiamo scelto una città, ma Manfredonia, che è una storia, come sappiamo, molto prestigiosa e molto antica, può diventare una realtà simbolica da questo punto di vista. Si inizia venerdì 7 marzo con il concerto in piazza Papa Giovanni XXIII, con Nakaira, Mimmo Cavallaro, Taranta Project, Canto di Scanto, il Tratturo del Molise, Patrizia Lopez, Alla Bua, Baobab e Danza Nova. Ospite d'onore Eugenio Bennato, direttore artistico Michele Mangano. Il 7 marzo Manfredonia diventa la capitale del folk, grazie anche a questo contributo che abbiamo avuto dal comune di Manfredonia, dalla regione Puglia. Si prosegue il giorno dopo, sabato 8 marzo, con il convegno Gargano Porta di Pace, appuntamento che si terrà nell'auditorium del liceo scientifico. Una manifestazione fortemente sostenuta dal consigliere regionale Franco Nissanti, che attirerà migliaia di appassionati e non della musica etno-folk e che rilancerà ulteriormente la città di Manfredonia verso traguardi sempre più prestigiosi.